Cari amici e cari amiche, vorrei segnalare ancora una volta il bel libro di Loredana Bonini, Cento racconti in cento parole e poco più. In particolare, per meglio farvi comprendere lo stile dell'autrice, vorrei segnalarvi il quarto racconto, Parola, dono dell'uomo. E partendo da una semplicissima riflessione, ossia che le parole nominano le cose, manifestano il pensiero e costituiscono uno strumento con cui le persone non solo comunicano fra loro, ma si influenzano a vicenda, la scrittrice Bonini osserva che se messe in fila, allora possono nascere storie, poesie, dialoghi, progetti. E hanno sia un potere di conforto, di benessere, e sia di critica. Insomma, dalle varie combinazioni si scatena, si può scatenare la fantasia di poetesse, poeti, scrittrici e scrittori, e chi più ne ha ne metta. Ma questo racconto, badate bene, proprio alla fine riserva un bel colpo di scena. Grazie.